Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1. Per un incidente ci sono due chilometri di coda tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione di Firenze. Più a nord rallentamenti per traffico tra Calenzano e Bvia 1 variante. Regolare il traffico altrove. Per il traffico ferroviario, fino al 3 settembre, la circolazione sulla Firenze-Viareggio sarà interrotta tra Pistoia e Montecatini-Terme per lavori connessi al raddoppio della linea tra Pistoia e Lucca, attivato un servizio sostitutivo con autobus. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tramvia. Fino a settembre sono previsti restringimenti in via di Novoli nel tratto Tacchinardi-Demidoff. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!